Buongiorno a tutti, sono Emilio Coveri, presidente della Exit Italia, l'associazione italiana per il diritto ad una morte dignitosa. Voglio ringraziare prima di tutto Marco Cappato, tutto il partito radicale, l'associazione Luca Coscioni e tutti gli amici radicali che ci hanno ospitato questa mattina qui, in questa conferenza stampa, in questa presentazione. Ma più che presentazione è stato un bellissimo incontro perché noi della Exit Italia, mezz'ora fa ci siamo incontrati con gli amici di Roma e provincia ed è stato un bellissimo incontro perché così ci siamo potuti conoscere personalmente e non come generalmente avviene adesso via email. Oggi parliamo essenzialmente di due cose importantissime, la cosa che riguarda la raccolta firme per la proposta di iniziativa popolare che abbiamo già iniziato dal dicembre scorso, con l'UAR e l'associazione Luca Coscioni e la Exit Italia. Per questa proposta di iniziativa popolare ha raccolto 50.000 firme per l'eutanasia legale e il testamento biologico. A tale proposito adesso passo subito la parola a Marco Cappato che vi ragguaglierà perché le cose stanno andando molto bene ma non dobbiamo ancora mollare. Poi subito dopo parleremo del libro che vogliamo presentare questa mattina, l'autore Marco Longhi, c'è anche qui l'editore, Sandro Gross dietro. Vi parleremo appunto di questo bel libro che rappresenta una via di uscita non indifferente di una persona che è partita e se ne è andata in Svizzera per risolvere il suo problema tragico di giorni infami pieni di dolore dovuto alla sua malattia e attraverso la pratica del suicidio assistito. Marco Cappato che vi ragguaglia e ci ragguaglia appunto sulla raccolta firme sulla proposta iniziativa popolare. Buongiorno a tutti, grazie Emilio e grazie a Exit per aver dall'inizio scelto di fare fiducia allo strumento della iniziativa popolare che alcuni ritenevano fosse prematuro. Noi abbiamo deciso di prendere la questione alla radice e di affrontare il tema molto chiaro dell'eutanasia, non semplicemente il testamento biologico o quant'altro, ovviamente è tutto giusto e condivisibile. C'è qui Filomena Gallo, segretaria dell'Associazione Luca Coscioni. Con Filomena l'altro ieri abbiamo inviato a tutti i parlamentari una lettera nella quale convocando il Consiglio Generale dell'Associazione Luca Coscioni che si è tenuto ieri auspicavamo la formazione di un intergruppo sui temi delle libertà civili. L'eutanasia, la fecondazione assistita, i diritti delle persone omosessuali, la ricerca scientifica sulle staminali, tutti questi temi. Allora che questa proposta abbia una sua urgenza e attualità lo dimostra una risposta indiretta che è stata inviata ai presidenti dei gruppi parlamentari da Maurizio Sacconi. Nella nostra lettera noi dicevamo il governo delle larghe intese fa l'agenda del governo ma il Parlamento deve essere libero di occuparsi anche dei temi che non sono dentro l'accordo di maggioranza, cioè non possiamo accettare che tutto il mondo si muove sull'eutanasia, sui matrimoni omosessuali, sulla fecondazione assistita e noi stiamo fermi perché c'è il governo dell'argentese. Il governo dell'argentese ha un suo programma e il Parlamento può mandare avanti una sua agenda, a maggior ragione se quell'agenda è anche di iniziativa popolare, cioè sono i cittadini che chiedono che sia inserita nell'agenda parlamentare e su questo si può liberamente formare un intergruppo, ieri da noi è venuto Galanna del PDL, è venuto Falanga del PDL, poi sono venuti del PD, lo giudice, Marzano, Palermo, sto dimenticando qualcuno, è venuta la rappresentante di rifondazione, quindi un intergruppo. Sacconi cosa dice ai Presidenti? È stato avviato nelle sedi parlamentari l'esame di provvedimenti profondamente divisivi in relazione ai fondamentali principi etici, eccetera, eccetera, si parla della questione dei diritti delle coppie di persone dello stesso sesso, il PDL nel corso della sua esperienza politica di governo non solo si è formalmente ancorato ai valori del popolarismo europeo ma ancor più ha assunto comportamenti coerenti in favore della vita, della famiglia e della libertà. Abbiamo rifiutato l'introduzione dell'eutanasia sostenendo il diritto ad alimentazione e idratazione dei disabili gravi e il dovere di soccorrere amorevolmente ogni propensione al suicidio. Cosa chiede Sacconi? Una moratoria sui temi etici divisivi. Noi credo che siamo qui per fare l'opposto, cioè non è un caso che questo messaggio sia stato mandato il giorno dopo che noi con Filomena avevamo chiesto esattamente il contrario, cioè un intergruppo che li portasse avanti. A che punto siamo? Sollecitava Emilio, abbiamo superato le 40.000 firme annunciate dai punti di riferimento, questo non significa l'obiettivo delle 50.000 firme, abbiamo tempo fino a 14 settembre per consegnarle, questo non significa che il risultato sia stato raggiunto perché sappiamo che c'è di mezzo agosto, sappiamo che possono essere settimane difficili, magari potrebbero essere stati fatti degli errori nella raccolta per cui bisogna raccogliere molte più firme eccetera eccetera. Sicuramente ci saranno due giornate di mobilitazione straordinarie oltre alla continuazione dei tavoli a fine luglio e per la ripresa a inizio settembre dovremo raccogliere ben più delle 50.000 firme necessarie per avere un margine, quindi convocheremo subito una giornata di mobilitazione per inizio settembre. Voglio anche ricordare che alcuni sindaci tra i quali il sindaco di Trieste e di Udine hanno sottoscritto la proposta, nonché personalità come Roberto Saviano, Paolo Froese d'Arcais, Umberto Veronesi, l'aveva sottoscritta Margherita Hack naturalmente, oserei dire visto che non è mai mancato il suo sostegno su questi temi, Marco Bellocchio, Paolo Ferrero, Richito Gnazzi, Alessandro Cecchi Paone, Michele Riondino, Antonella Elia, Toni Garrani, Giancarlo Galara, Antonio Ingroia, Monio Vadia, Marco Pannella naturalmente e 13 parlamentari non sollecitati ancora, noi non abbiamo ancora fatto campagna sui parlamentari ma quelli che fanno i tavoli in giro per l'Italia ne hanno già beccati 13 ai tavoli dei quali la maggior parte del Movimento 5 Stelle, poi vedremo le tappe future, non c'è un obbligo per il Parlamento di discutere una proposta di iniziativa popolare, però credo che dopo tutti questi mesi di grande retorica o anche attenzione positiva al problema della iniziativa popolare credo che questo Parlamento non potrà mancare, non dovrà mancare di prendere in esame questa proposta. Naturalmente se raccogliamo le firme, se riusciremo a raggiungere l'opinione pubblica che sappiamo essere molto più avanti della classe politica su questo tema, io termino salutando il libro e il racconto che è stato fatto, come sapete qualche mese fa anch'io sono andato in Svizzera, forse lo sapete perché avete visto il video che abbiamo pubblicato sul sito internet a accompagnare una persona, sappiamo che questo potrebbe essere persino sanzionato, perseguibile penalmente dalla legge che abbiamo, me ne sono assunto la responsabilità pubblicamente perché credo che comunque, perché il mio ragionamento era comunque vada sarà positivo, se non succederà niente come non è successo perché allora magari dare più coraggio alle persone che lo fanno creando comunque un precedente pubblico, non nascosto di questo, dall'altra parte se qualche magistrato veramente volesse occuparsi di questo sarebbe per noi un'occasione per portare, un'ulteriore occasione per portare all'attenzione dell'opinione pubblica lo scandalo di una legge che non tollera ulteriori attese. Noi vogliamo fare il contrario di una moratoria su temi etici divisivi perché per noi non sono temi etici divisivi, sono libertà civili e diritti fondamentali, sulle libertà nessuna moratoria, c'è solo da recuperare il ritardo che il nostro Paese ha accumulato su tutti questi temi nel contesto internazionale. Io voglio aggiungere una cosa a quello che ha detto Marco Gappato, sicuramente si prenderanno ben guardia di perseguirlo perché non ci danno l'occasione per alimentare un dibattito su questo nostro povero Paese che è disinformato. Ecco il mio rammarico di tutto questo lavoro che stiamo facendo tutti insieme e con grande foga perché ci teniamo a raggiungere un diritto civile, un diritto di libertà di una persona, di un individuo che possa decidere della fine della propria esistenza in modo che questa fine possa essere almeno dignitosa e senza inutili sofferenze. La disinformazione in questi mesi è stata totale, è stata pazzesca, non se ne parla in giro, i mass media probabilmente hanno avuto il diktat di non parlare di questa ma non importa, va bene, lo sappiamo, è sempre stato così, i nostri compagni radicali sono andati avanti per tanti tanti anni con questa stampa che purtroppo, purtroppo. Io volevo prima passare la parola e parlare di un attimo di questo bel libro intitolato Il Viaggio che è di Marco Longhi che è qui accanto a me e anche Sandro Grosprieto che è l'editore Genesi, editrice di Torino. Volevo che Silvio Viale dicesse due parole a questo proposito anche di tutto quello che sta facendo anche lui. Prego. Sono bevissimo perché riprendendo di Tomarcappato è abbastanza curioso che i giornali italiani a differenza di quelli di Francia, Inghilterra, Spagna non si occupino assolutamente degli italiani che sono andati in Svizzera, che sono ormai numerosi. Perché dopo la vicenda di Lucio Magri che è del 28 novembre 2011, noi abbiamo avuto Vittorio Bisso il 27 giugno 2012 dove il figlio e la moglie hanno dichiarato di averlo accompagnato e assistito sul contesto, notite giornalistiche. Abbiamo avuto poi Daniele Cesarini il 25 aprile 2013, anche lì anche lei militante di sinistra come Vittorio Bisso era consigliere provinciale dei comunisti italiani, Daniele Cesarini e delle fondazioni comuniste. Piero Franchini del dicembre 2012, di cui ha parlato Marcappato, abbiamo avuto poi Pietro D'Amico, appunto recentemente, che ha sfondato un po' le vicende della cronaca nazionale, perché essendo il magistrato è impegnato in altre vicende e non avendo detto nulla alla famiglia, che inizia tutto da solo, peraltro alcuni di questi sono iscritti a Ex Italia, sono i nostri soci, d'altra parte essere iscritti e far parte delle associazioni per l'eutanasia e per il diritto alla morte di Tosa è qualcosa che quando c'è bisogno non è che fa parte del curriculum, non è chiaro che significa che uno non ha deciso sul momento, come è capitato ad esempio a Melazzini a suo tempo, Melazzini che oggi è uno dei campioni contro l'eutanasia, a suo tempo quando ebbe la diagnosi era uno di quelli che voleva assolutamente fare in fretta, per fortuna lo bloccano altri, si riflette e oggi si batte contro di noi, ma per capire come su queste cose bisogna essere molto molto chiari. Ma non soltanto abbiamo Roberto Gandolfi, che anche questo l'ha storito fuori dopo, con l'intervista sulla figlia, che ha raccontato, storico militante e dirigente del PLI, liberale, saldo e anche questo la cronaca è andata oltre la Sardegna e vi dicendo, però senza citare i casi che ormai citiamo sempre di Monicelli, Lucentini, ma che sono la punta di un iceberg, di un'esprazione molto più diffusa, di gente costretta, dove molte volte comparino i trafiletti e i piccoli articoli sui giornali semplicemente perché vengono scambiati per fatti di cronaca nera e quindi compare la cronaca, poi si scopre che l'omicidio-suicidio aveva altre motivazioni eccetera, ma volevo solo ricordare, per finire, altri due personaggi noti dove sia nel caso di Anna Proclaimer, sia nel caso di Franca Rame, Giorgia Bertazzi e Jacopo Fo hanno detto che più volte le hanno chiesto di aiutarle a morire, nessun caso è stato fatto per molti motivi, Giorgia Bertazzi ha detto che non è contrario, però una cosa è essere d'accordo, la legge, discutere, poi i casi personali e le storie personali sono sempre qualcosa di diverso e vi dicendo, per cui alla fine tutti però hanno visto nella morte di Franca Rame e di Anna Procreme non qualcosa di tragico, ma la fine di qualche cosa che era inevitabile eccetera. Se vi permetto di dire queste cose, lo dico perché il dibattito anche in Italia è maturo, abbiamo invece un mondo politico e direi di conseguenza anche il mondo mediatico che si tira indietro e evita di fare quello che normalmente negli altri paesi succede, per cui proprio sui casi clinici che sono andati in Svizzera, sia in Inghilterra che in Francia ma in Germania, sono iniziati avanti questioni giudiziarie e anche questioni politiche. L'ultimissima cosa, e questo lo dico con stupore, noi abbiamo un articolo del codice italiano del 580 che è cappato, poi è chiaro che sembra quasi faccio il pubblico ministero qui nei confronti di Mario Cappato, però anche nei confronti nostri perché abbiamo rapporti con le associazioni olandesi, svizzere, tedesche, belghe, l'unice bulghesi, normalmente in conveni internazionali, vi dicendo, in cui non si capisce se la magistratura italiana dove c'è un obbligo di azione penale apra, fascicola e richiuda, faccia finta di niente o ci sia una tolleranza di fatto, perché se c'è una tolleranza di fatto, ormai ho citato prima 7-8 nomi, sono molti di più ovviamente, quindi non tantissimi di più, però conta poco questo vuol dire che andare in Svizzera di propria volontà, organizzandosi da solo e informandosi prima, non è più un reato e non è un reato in questo paese. Se è così è già un grosso passo avanti che tira la volata e forza la mano anche alla politica, perché stati di prendere atto di una situazione è in qualche modo favorita. Purtroppo noi siamo fermi nemmeno al testamento biologico, che sembra sia qualcosa di rivoluzionario, in realtà siamo in ritardo e quindi il testamento biologico, soprattutto in periodi in cui non c'è un nemico, non c'è più centro-sinistra, opposizione, centro-destra e quindi su certi temi si usa anche come leva politica per la polemica, ma in una situazione un po' più di calma si rischia proprio che questi argomenti vengano messi da parte. Ecco perché io ringrazio Marco Longhi che ha fatto libri per parlare il viaggio, tutte queste cose perché sono tutte cose che aiutano per portare avanti l'argomento. Grazie a voi. Bene, grazie anche a Silvio Viale che ha dato una bellissima spiegazione anche a questo proposito. Allora adesso passiamo alla presentazione del libro di Marco Longhi, Il viaggio. Sentiamo prima delle parole dell'editore che ci illustrerà il perché ha voluto poter stampare questo bel libro e io vi aggiungo solamente un piccolo commento come exit. Noi è tanti anni che lavoriamo in questo Paese per quella sofferenza che stiamo scoprendo che è intorno a noi e vi garantisco che ce n'è tantissima. Noi riceviamo a Torino 30 telefonate alla settimana di gente disperata per sé o per i propri congiunti, per amici, conoscenti, per informarsi di come possano risolvere il problema di una fine, di un'esistenza che si possa neanche chiamare più vita. La vita quando non è più vita non ha più senso il motivo di esistere. Noi siamo per la vita, noi siamo sempre stati per andare a farcela bene, a mangiare di qua, di là, al teatro, in vacanza, con gli amici, a spassarcela. Ma quando si sta male non hai voglia di andare in vacanza. Se uno sta male non ha voglia di andare a teatro, non ha voglia di andare a cena con gli amici, perché sta male. Ed ecco perché, e mi riferisco al discorso che faceva Silvio Di Ale, perché questa politica è in ritardo, perché questa politica non prende in considerazione la gente che soffre. È troppo semplice dire ha bisogno di cure, amore, ci sono le cure palliative. Beh, intanto facciamo gli ospis allora, mettiamo delle possibilità che questa gente possa essere accompagnata dignitosamente e diamogli un po' più di morfina quando urlan di dolore. Siamo il 104esimo paese del mondo per l'uso di oppiace a favore di questa povera gente che grida dalla mattina alla sera perché sta male e ci batte perfino lo Zimbabwe. Quindi noi vogliamo sensibilizzare non soltanto il tema della malattia, del poter decidere da noi stessi, perché è eutanasia, è decidere per noi stessi, non è per un altro. E poi voglio capire perché ci deve essere un altro che deve decidere come io devo morire. Questo è il nostro significato, che portiamo avanti e porteremo avanti in futuro insieme ai compagni radicali, perché abbiamo visto che non solo l'unione fa la forza, ma abbiamo sempre avuto delle tematiche molto condivisibili, quindi saremo sempre più uniti più che mai in futuro. Io ringrazio allora i due amici Sandro Grosspietro, che è l'editore, e Marco Longhi e vi presentiamo perciò il libro Il Viaggio, che è un bellissimo libro che vi invitiamo a o acquistare o andare a cercare nelle librerie o chiedercelo direttamente a noi. Alessandro, Alessandro Grosspietro. Grazie Emilio, innanzitutto un saluto a tutti gli amici presenti, un ringraziamento in modo particolare al partito radicale che ci ospita e siamo molto grati, io in particolare come editore, di partecipare a questa riunione. L'amico Emilio, nella sua presentazione di Pocanzi, quando parlava in generale dell'attività dell'eutanasia, ha detto che l'associazione Exit si muove su tre bande o tre versanti diversi, cioè quello giuridico, quello medico e quello etico. Ecco, diciamo che ciò che noi abbiamo fatto, e siamo qui a proporvi come romanzo, è su quest'ultimo versante, cioè sul versante etico direi addirittura letterario. E io lo presento come tale, perché è prima di tutto un magnifico racconto, una bellissima storia. Voglio dire che non si tratta di un'attività culturale, come dire, di propaganda, di un versante o dell'altro, ed ispirata ad una ideologia vera e propria. Certamente è piena di politica, è piena di valori civili, perché sempre quando si racconta una storia si fa anche riferimento ai valori civili. Ma appunto nel termine di eticità è una storia trasversale, che potrebbe andare bene come contenuto, come discorso che viene fatto, potrebbe andare bene a, si è parlato prima, di persone che hanno fatto questa scelta e che appartenevano a diversi versanti politici. Ecco, qui c'è qualche cosa di questo genere. L'autore mi ha sorpreso, devo dire, è un mio autore apprezzatissimo della mia casa editrice, che è al suo secondo libro. Il primo libro si intitola La Pietra di Luna ed è un romanzo, definirei, giallorosa, dove ci sono degli omicidi, ma c'è una storia d'amore che fa da fil rouge a tutta la questione, tutto il romanzo, tutta la vicenda, al plot, all'intreccio narrativo e alla fin fine trionferà l'amore. In questo secondo romanzo, che lo dirà poi l'autore stesso, si è infilato prepotentemente nella sua produzione letteraria, facendogli saltare, sospendere un altro romanzo, che in un qualche modo l'editore stesso gli aveva commissionato e che mi aspettavo, in questo secondo romanzo, la storia e la vicenda è principalmente una vicenda d'amore e ovviamente c'è il binomio amore-morte. Noi siamo abituati dalla scuola a considerare il binomio amore-morte connesso a Goethe, ai dolori di Werther e alle ultime lettere di Jacopo Ortis, cioè si arriva alla morte perché ad un certo punto l'amore non funziona più. Questa è la tesi romantica, dove non è possibile sviluppare l'amore, allora piuttosto è meglio, è meglio darsi la morte perché se non possiamo essere ricambiati dalla persona amata, la vita perde di significato. Il concetto che ci sta di base è il rovesciamento completo di questa teoria romantica. E forse proprio per questo sto parlando di valori etici, di valori letterari, di valori morali, di valori artistici. Io mi sono affezionato così tanto a questo romanzo che vi invito a leggere perché è profondamente, oltretutto è anche molto piacevole, pur portando alle lacrime perché la storia non è una storia felice. C'è un rovesciamento perché i due protagonisti, uno è toccato dalla disgrazia, Andrea dovrà morire perché è toccato dalla SLA ed è una condanna a morte, il medico glielo dice, glielo fa intuire chiaramente, la medicina è impotente per salvarlo e tirarlo fuori. E lui, ciò non di meno, continuerà in tutti i modi possibili e immaginabili, esattamente come diceva Miglio, ad amare solo e soltanto la vita. E continuerà a scappare, a combattere contro la malattia che viene in avanti finché potrà farlo. Fino a quando potrà farlo? Fino a che l'amore con la donna che è la donna della sua vita può essere salvato, può essere gestito nella dignità della loro quotidianità. Quando si rende conto che ciò non sarà più possibile perché lui sta perdendo completamente ogni dignità umana e sta trascinando in una vita non più dignitosa anche la persona che ama di più a questo mondo, che è la sua cilla, che è la sua compagna. Allora lui a questo punto qui non riesce più a parlare. Scusatemi se mi permetto di dirvi queste cose, non riesce neanche più a defecare, non ha più la forza per i muscoli, tutto deve avvenire per caduta naturale della forza di gravità. Non riesce più a imboccarsi, riesce perfettamente, questa è la perfidia, terribile della malattia, a ragionare e avere consapevolezza che giorno per giorno sta perdendo la sua dignità. E pazienza, la dignità potrebbe anche perdere la sua dignità di uomo, ma quello che non vuole assolutamente perdere è l'amore che l'ha legato a Cilla e non vuole che Cilla debba condividere questa storia, che debba rimanere prigioniera di questo dolore. e allora tutti e due fanno questa scelta, questa scelta perché la fanno tutti e due, questo è il bello che mi ha così profondamente commosso, non è lui che la impone a lei, tutti e due, e non è una scelta che fanno volentieri, come uno può dire, andiamo al cinema, facciamo un atto di turismo, facciamo un ultimo viaggio divertente, è una scelta che costa carissima, è una scelta che non ha ritorni, è una scelta che è un dolore infinito, vuol dire la separazione, la fine del loro amore, ma conservato con dignità, messo in una teca e poi conservato per sempre. e allora la Cilla rimane compagna, vicino al suo Andrea fino alla fine, perché vivranno questa scelta che è così terribile, così tremenda, la vivranno nella quotidianità del loro semplice amore, che è sempre stata una corrispondenza, un volersi bene nelle cose semplici, tranquille della vita, quindi compiranno questo viaggio, che in realtà è una tragedia, è un andare agli inferi, è un andare verso l'Ade, ma non come ci è andato Ulisse, come ci è andato Orfeo, come ci è andato Dante, con il biglietto di ritorno indietro, perché ci andavano dentro un'opera letteraria, qui ci vanno nella realtà, quindi il biglietto di ritorno non c'è. E ciò non di meno, lei è così innamorata di lui, che nasconde a lui il suo dolore pazzesco, e non tenta neanche di frenarlo, perché sa che lui ha bisogno di essere amato, e di essere portato in avanti, fino in fondo. Io credo di non dovere dire molto di più, però vi posso dire che è a mio giudizio, certamente io pubblico sui 60 libri all'anno, più di un libro alla settimana, ma vengono letti, e beh in Italia si legge poco, ma questo è un libro che si legge, è un libro che ha già venduto parecchio, anche se oltretutto io sono un editore underground, che va poco in libreria, e sono acquistabile soltanto per librerie virtuali, su internet e alcune librerie amiche, però è un libro che fa riflettere profondamente, ed è un libro che è nato quasi per caso, e su di questo magari vorrei cedere la parola all'autore stesso, perché ci racconti un po' meglio la sua esperienza di scrittura. Grazie. Ringraziamo l'editore, Sandro Graspietro, e volevo salutare tra l'altro in sala che c'è la nostra cara amica Mina Welby, e poi ci darà anche lei qualcosa. Bene, passiamo all'autore Marco Longhi, che tra l'altro io ho conosciuto in una sera di novembre del 2012 in un convegno al circolo di elettori da Torino, dove noi stavamo parlando sempre delle solite nostre cose sull'exit e sull'eutanasia, c'erano anche gli amici del Loire di Torino, e questo signore intervenne dicendo ma io ho avuto una bella esperienza, così ho conosciuto, e ho cominciato a parlare, ho detto ma adesso questo parla male della dignità, comincia a parlare della male dell'exit, e il solito provocatore, eravamo già lì pronti in due, due gorilli, non solo a bicchiarlo, ma a cacciarlo giù. Uno c'è che è l'altro storico. Uno c'è che è l'altro storico. Che scalziamo naturalmente, ci mancherebbe, noi non siamo violenti, assolutamente, noi non siamo per la violenza, anzi. Quindi questo ha parlato bene invece della dignità, dice ma un servizio bellissimo, doveva... Così così, e a questo punto ci siamo affezionati. Passo la parola a lui, così ci racconta di questa sua esperienza, che è una bella esperienza tra l'altro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Adesso sono un po' emozionato, perché hanno detto praticamente tutto, hanno detto tutto il libro, il libro è molto bello, dovete comprarlo, quindi scusatemi se faccio questa introduzione un po' stupida, adesso ne faccio un'altra però un pochettino più complicata. con una poesia, una poesia ermetica, che poi ci lega a tutto il discorso. Fa così, è molto breve. Sì, vabbè, la poesia era di uno sconosciuto, di mio padre, mio padre che faceva poesie, che scriveva poesie per hobby, e poi in un momento particolare della sua vita, quando stava assistendo suo padre, quindi mio nonno, in punto di morte, e lui ovviamente, con un po' un carattere un po' forte, però chiaramente dentro di sé era molto debole, scriveva qualche cosa di toccante. E questa poesia qui, che piccolina, che mi la sono portata dietro, mi serve proprio per introdurmi, diciamo così, e fa così, il caldo è nel cielo, ma il gelo è nel cuore, la gente non vede, non sente, non sa. Ecco, è finita, quindi, è una poesia ermetica, però che raccoglie molto, perché raccoglie praticamente il dramma, che ognuno di noi, può capitare di vivere, perché la gente non sa niente, noi non possiamo trasmettergli questo problema che abbiamo. E questo problema che ho vissuto io, è di una persona che è andata appunto a intraprendere questo viaggio per andare a morire in Svizzera, quindi non si trattava di un viaggio di vacanze, o di piacere, o neanche di lavoro, era un viaggio per andare a porre fine alla sua vita. Questa persona io lo conoscevo molto bene, quindi quando ho saputo che ha fatto questo viaggio, mi sono sentito molto toccato, mi sono sentito in dovere di farmi raccontare per filo e per segno, da chi lo ha accompagnato, che cosa hanno vissuto in quel momento, perché questo viaggio è un libro di 110 pagine, quindi si legge tra un'ora, un'ora e mezza, niente di più, non è molto impegnativo, nel senso che si può leggere in qualsiasi momento della giornata, e racconta dalla partenza da casa sua per andare in Svizzera a morire, quindi due giorni il viaggio è questo. Io allora ho cercato di impersonificarlo questo protagonista, perché io con il mio modo di scrivere, parlo in prima persona, e quindi parlando in prima persona e al presente, mi dà l'idea di avere l'immagine proprio qui davanti, di viverla, e per cui il fatto di impersonificare il protagonista, non so, visto che lo conoscevo anche come carattere, ho cercato anche di trasmettere nel libro il suo vero carattere, che era un carattere, diciamo, carismatico, era una persona molto decisa, quando prendeva una decisione era quella, e difficilmente tornava indietro, per cui quando ha deciso di andare, di partire per andare a morire in Svizzera, sottolineo morire in Svizzera, non perché gli piaceva andare a morire in Svizzera, è perché non si può qua in Italia, lo sappiamo benissimo tutti, se no, ecco come dice Emilio, dice noi andiamo a morire in esilio, no? e quindi ci costringono a morire in esilio, e quindi lui aveva detto, guardate, io ho una malattia che si chiama sclerosi laterale amiotrofica, che fra l'altro ho dovuto constatare che ce l'ho, ma nessuno me l'ha mai conclamato proprio ufficialmente, cioè i sintomi sono quelli, il degrado è quello, e viene catalogata in questo settore, lui decadeva sempre di più giorno per giorno, e mi ha detto una volta, io arrivo soltanto fino alla sedia a rotelle, oltre non voglio andare, è una scelta, è una scelta, e proprio perché questo personaggio qui è molto deciso, lui sceglieva, e io ho imparato da lui un concetto che mi porta avanti con forza, diciamo così, se chi sceglie nella sua vita, chi sceglie è comunque un vincente, indipendentemente da quello che poi succeda, e infatti l'ho notato anche qua, in questo opuscolo che veniva distribuito al Circolo dei Lettori a Torino, dove, mi permetto di leggerlo, tanto è brevissimo, Scegliere vuol dire dare forma a noi stessi, è mettere ordine nel caos dei desideri, scegliere è sottrarsi ai condizionamenti, è sovvertire le abitudini, scegliere talvolta è anche il rischio di cadere, è non smettere mai di cercare il significato dell'esistenza, scegliere insomma è vivere, ecco in questo caso, la scelta della morte è vivere, non ne poteva più, non era a livello, lui ha detto proprio, dalla sedia a rotelle, io questa situazione non lo accetto più, è successo poi, quando ha deciso, io sono stato informato subito, perché appunto come conoscente, me l'hanno detto in segreto, e naturalmente subito che parlo, ho divulgato la cosa stupidamente, e mi ha telefonato un collega, io ero in macchina, mi telefona, mi fa allora quella persona là come sta? E io ho detto guarda, ha deciso di andare in Svizzera, perché proprio non ce la fa più, davvero, ma stai scherzando, ma convincilo, ma cosa fa? Ha gettato la spugna, io mi sono rimasto malissimo, quando mi ha detto questo, non sapevo più cosa dirgli, veramente mi ha preso in contropiede, io pensavo che mi appoggiasse, e invece di, ma cerca di convincerlo, digli di andare a Lourdes, visto che spendi dei soldi, per andare in Svizzera, magari cosa vuoi che sia, mille euro in più, prova ancora a andare a Lourdes, allora io ho lasciato perdere, vabbè dai ci sentiamo, ciao è finita lì la telefonata, non l'ho più sentito, combinazione per radio, io sono sempre in macchina, perché il mio lavoro ufficiale non è quello di scrittore, ma quello di fare agente di commercio, quindi sono sempre in giro, per radio c'era, aspettate, c'era Oscar Righetti, che leggeva delle frasi così particolari, però la sua introduzione era, l'ignoranza fa più male della cattiveria, ecco è questo il concetto che ho detto, vabbè allora senti sei ignorante, se tu non sai, perché la gente quando parla è perché non sa, ho notato questo, un esempio stupido all'ufficio postale, fate la coda all'ufficio postale, ci sono due persone che servono la coda, e tutti quanti indispettiti, guarda è mezzogiorno, siamo qui, siamo tutti qui, e ci sono soltanto due persone che ci servono, ecco, e non sanno che magari ci sono gli altri in cassa integrazione, non sanno che ci sono soltanto poche ore di punta, non sanno che hanno licenziato delle persone, ma per certi motivi, la gente parla quando non sa, e in questo caso l'ignoranza è proprio cattiveria, è questo il discorso. Beh comunque, tornando al libro, io mi sono sentito molto onorato di fare una storia del genere, perché adesso non voglio dilungarmi tanto, perché poi spero che lo leggiate un giorno, però comunque è una cosa, è un'esperienza che mi ha dato, un'esperienza che mi ha dato molta forza, infatti ho iniziato a pensare alla vita come un po' più cinicamente, non so se è un concetto forse un po' così campato in aria, ma se noi ce lontanassimo dalla Terra, in un'astronave, ci allontaniamo, la Terra è sempre più piccola, sempre più piccola, e sappiamo che sulla Terra ci sono miliardi di persone, diventano sempre più piccole, diventano più piccole dei microbi, e cinicamente dico, ma guarda, mi farebbe meno male a vedere morire queste persone così da lontano che da vicino, allora la distanza è anche proporzionata alla sofferenza, non lo so, è un concetto così cinico, potremmo poi magari svilupparlo in un'altra seduta, comunque bisogna vedere le cose un pochettino più tranquille, la morte, la morte è, dobbiamo morire tutti prima o poi, quindi se vogliamo morire nel modo migliore perché non farlo? A me piacerebbe morire da ridere, ma non so se ci riuscirò, però ecco, questo è un concetto così un po' volatile, però insomma, diciamo che se c'è la dignità, se c'è la possibilità di morire nel migliore dei modi, perché non vedo perché, comunque saperemo tutti d'accordo su questo, quindi non è che, io mi permetterei adesso di leggervi soltanto un passo, che è praticamente il momento dove il protagonista dall'albergo, perché è in albergo, ovviamente è passato la notte prima in albergo, quindi anche lì un problema dell'ultima cena, perché è cenato con i suoi parenti, i suoi amici, e quindi ho cercato anche di scrivere lo suo stato d'animo, poi va a letto perché è stanco, la mattina si alza e va a morire, e lì c'è l'unico momento di sfogo, di arrabbiatura di questa persona, perché vedrete che il libro non ce l'ha con nessuno, non ce l'ha col sistema, non ce l'ha con nessun organo importante, niente, è una cronaca di quando si parte e da quando si arriva, possibilmente con più stati d'animo, per metterli nel migliore dei modi. Allora, si troverà poi a pagina 79, dico bene? 79. È un passo bellissimo, che è un passo bellissimo, che gli faccio sempre leggere tutte le volte, che è toccante tra l'altro, perché secondo me è una rivincita, è una rivalsa, ascoltatelo, è inutile che dica io. Nel momento che esce dall'albergo, prende la boccata d'aria, prima di andare nel posto stabilito. Respiriamo un po', voglio godermi questi ultimi momenti della vita, togliendo una piccola soddisfazione. Sì, cara sclerosi laterale amiotrofica, per gli amici SLA, dico a te, tu per me hai un valore ancora più basso dell'odio, quindi, bestia infame, non sarai più tu a condurre il gioco, ma ti sorprenderà sapere che sono venuto io a cercarti. Per me sei semplicemente un mezzo, un veicolo, sei così subdola, che ti nascondi dietro la sofferenza e le umiliazioni, perché tu da sola non porti a niente. Senza uno stupido corpo al quale aggrapparti, non hai un senso, ma io oggi darò un bel incarico alla mia amica morte, proprio così, la morte che diventa la mia alleata per separarmi finalmente da te e riprendermi quello che tu mi hai rubato, la dignità di essere umano. Ma non è finita qui, perché ti porterò ancora con me fino a quando il mio corpo non se ne sbarazzerà definitivamente, ti abbandonerà nel nulla, sì, non so per quanto, ma vagherai ancora così, fino a che non ti rimarrà un bricio di sostanza. La mia amica morte, lei sì che è una signora, lei non fa differenze, lei esegue e basta, ma lei esisterà sempre, mentre tu prima o poi diventerai un semplice, triste e squalidissimo ricordo. Sappi che sei già sulla buona strada, credimi. Figurati, piccola e miserabile nullità, che oggi io mi permetto di terminarti e di farti cessare quel ruolo infame al quale tu credi così stupidamente. Io invece tuo malgrado ho già capito il vero senso della vita, io vado oltre. Bellissimo, bellissimo, veramente. Io tanto ringrazio Marco Longhi di questa presentazione, che ci è piaciuta tanto. Volevo chiedere a Mina Welby se aveva piacere di fare un piccolo commento sul libro, visto che ho saputo che l'hai letto. e l'abbiamo fatta legge. Sì, sì. L'hanno costretta. L'hanno costretta. Obbligata. Sì, l'ho letto facendo la metropolitana. Mi ero veramente estragnata, sono riuscita veramente a estragnarmi perché è scritta in un modo molto semplice e avvincente. A me, adesso devo veramente dire, ha ricordato la scelta di Pier Giorgio in tutti i sensi. Specialmente all'inizio, quando il libro inizia praticamente con un volo e sembra di essere in aereo, ma non è l'aereo. È la persona che non c'è più, cioè che sta bene ormai e vede praticamente il sotto, la Svizzera, l'autostrada, le macchine. Vede la sua macchina con la quale era andato lì e vede andare tutti a casa. Però è felice, si sente che la persona è... Mi ha fatto ricordare Pier Giorgio che io gli avevo proposto ti porto in Svizzera e se cade l'aereo... Lui era ironico anche sulla sua sofferenza. Quello che lui avrebbe voluto era esattamente quello che ha scelto Andrea. Lui non ha avuto la possibilità di farlo, purtroppo. avevamo anche contattato i medici belgi. Sono venuti a casa, hanno visto e hanno constatato che era possibile fare questa scelta. Però non c'era scelta in Italia, non era possibile. E io mi sto domandando, appunto, riflettendo anche sulla legge, sulla proposta di legge che abbiamo depositato in Cassazione e che adesso stiamo dove stiamo raccogliendo le firme e la gente firma veramente perché capisce e sa che il rifiuto delle terapie in anestesia la persona la persona praticamente segue lo stesso iter di quello che fa una persona prendendo l'autosomministrazione di un cocktail che lo addormenta e poi alla fine il cuore si ferma. Io credo che la differenza del morire non c'è, non esiste. È il metodo. Ma io credo che questo metodo è assolutamente da considerare e da affermare e io lo vorrei che venga veramente fatto anche in Italia per quelle persone che altrimenti un'anestesia che la faccia morire perché non hanno più un ventilatore non è possibile. Ci sono malattie di SLA che scelgono prima o non hanno possibilità di scegliere perché non hanno un respiratore che è da staccare e devono magari aspettare che non possono più inghiottire e devono morire di fame e di sete fino alla fine. È un medico indulgente compassionevole medico di famiglia da delle gocce per addormentarlo e lasciarlo morire lentamente ma con un dolore terribile per la famiglia. io credo che anche Francesca che è la moglie di Andrea ha seguito ed è stato accanto al marito sicuramente con dolore non l'ha fatto vedere i suoi occhi sì lei ha pianto io per esempio non ho pianto mi sono tenuta veramente forte Capato lo sa perché è stato vicino quella sera perché Pier Giorgio non voleva che io piangessi e deve essere stato un problema non ho fatto fatica non ho fatto fatica perché avevo già pianto troppo i giorni passati erano tre giorni prima dove facevo già i calcoli oggi ancora sono due cene che preparo oggi e domani dopo domani non mangerà più perché non lo vuole sono ancora due colazioni che faccio insomma era un lento morire anche mio insieme a lui e credo che sia anche questo di Francesca Andrea che è il protagonista del romanzo perché scrivi in io quindi è Andrea che parla nel romanzo che racconta anche la moglie il modo come come avvengono le cose quindi è una cosa veramente molto bella e forse potrebbe aiutare anche persone che devono fare questa questo iter per poter non vivere più e le persone che stanno accanto a loro possono avere veramente un aiuto in questo per essere vicini veramente fino alla fine e con grande affetto ma infatti è quello che ho notato anch'io grazie a lei che l'ha letto io ho avuto l'onore di conoscerla a Genova dobbiamo passare ai giornalisti passiamo ai giornalisti se ci sono domande ringraziamo tanto la stampa presente siamo qui apposta per dire tutto quello che è necessario se non ci sono domande finisce lui chiudiamo è tutto chiaro va bene vi sai ok chiudiamo chiudiamo concludi poi concludi poi quello che vuole ma no ma adesso è una cosa chiudiamo anche con una cosa un po' simpatica nel senso che non è che si parla solo di morte ma cioè si parla di vita ma in funzione della vita quindi è un aneddoto che appunto aveva iniziato prima Emilio quando quando era l'anno scorso settembre ottobre dell'anno scorso appunto e c'era questa convention al circolo dei lettori di Torino e io avevo letto sul giornale che c'era la possibilità di partecipare eccetera e io ero consapevole di questa cosa avevo conosciuto l'ex di riflesso proprio per questa persona qui sono andato ho detto sa se trovo se trovo parcheggio vado se trovo parcheggio ci vado poi anzi prima se ho tempo ci vado poi se trovo parcheggio e poi se riesco a parlare meglio ancora allora io sono andato lì avevo il tempo e ce l'ho fatta ho trovato il parcheggio sotto sotto proprio il portone del circolo dei lettori fortunatamente è una cosa impossibile sono andato su e c'era questa convention si parlava appunto di morte assistita di testamento biologico eccetera allora io ho fatto un intervento quello che ha spiegato prima Emilio molto sconclusionato perché ero affannato non sapevo come introdurmi cioè praticamente ero arrivato lì così col fiatone perché ero riuscito a trovare il posto e poi subito ho detto due stupidaggini e quindi è stata una serie di condizioni fortunate che mi hanno portato fino a qui adesso io qui sono onorato di essere ospite qui del partito radicale a Roma però quando poi quando avevo mi sono fatto scrivere e fatto dettare il libro cioè gli episodi da queste persone loro mi dicevano ma cosa vuoi che interessi questo libro ma chi vuoi è un problema nostro ma cosa vuoi che ci interessi ma mettiamolo giù sono andato appunto al circolo dei lettori per caso e da questa cosa è nata questa cosa che diventa quasi irrefrenabile è un fiume io vi garantisco è una cosa che purtroppo parte da un'esperienza diretta di un'altra persona che però mi coinvolge in una maniera così piena sì totale devo dire questo quindi io mi auguro che qualcuno di voi lo legga così serve a tutti comunque concluderei solo con questo grazie grazie allora il libro è il viaggio Marco Longhi per firmare per informarsi sulla raccolta firme e far firmare altri il sito è www.eutanasialegale.it grazie a tutti grazie a tutti ricordatevi che questo libro è da acquistare da leggere e da regalare non da imprestare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti